Ci troviamo qui all'Aula Moscati della Clinica Morgagni, dove oggi si è svolto questo interessante momento, anche emozionante, di consegna anche di questo gagliardetto alla presenza del governatore del distretto Malte Sicilia, Alfio di Costa. Siamo con il presidente anche del Rotary Club Catania e qui siamo con il professore Castorina, che lui è il presidente della fondazione della Clinica Morgagni, che ha detto delle belle parole di queste due belle realtà che compivono, che è quella della sinergia tra quello che è l'istituzione del Rotary e anche quello del donare. Io manifesto emozione e gratitudine. Devo dire che io considero questa occasione, l'incontro, come la più gratificante per la mia carriera. La mia età mi permette di immaginare che tutto quello che ci siamo detto è sincero, perché non c'è possibilità di far carriera per nessuno. Quindi veramente grato di questo incontro e un ricordo che porto insieme con la mia famiglia a conclusione di questo mio lungo percorso di vita professionale. Grazie a voi. Grazie a voi.